Ogni fotografia non scattata non è soltanto una foto mancata o qualcosa che loro devono portare a casa per lavoro, ma anche qualcosa che viene meno all'informazione, alla documentazione, ma anche all'umanità stessa. Come tutti i progetti nasce da un input che solitamente entra all'improvviso all'interno della tua vita, del tuo lavoro e innesca un processo che è quello creativo. In prima linea ha avuto lo stesso iter, cioè da un incipit, da un'immagine, in questo caso da una fotografia è nata il desiderio di fare questo documentario e quindi come succede di rado ci siamo riuniti e abbiamo fatto partire il progetto in meno di due mesi. Allora la difficoltà è stata tantissima, perché alla fine sono 14 fotoreporter che abitano in città diverse, quindi con Francesco c'è stato un lavoro di contattarli, capire le loro disponibilità che a volte potevano anche cambiare. Infatti capitava spesso che magari avevamo confermato il giorno per le riprese, poi però magari ci arrivava una chiamata due giorni prima per un problema che il fotografo non riusciva, perché magari non era ancora arrivato in Italia, bisognava rimandare. Questo ha un po' portato da lungare i tempi. L'avere a disposizione insomma una piccola troupe e avere comunque attrezzature comunque di altissima qualità che ci permettessero di realizzare tecnicamente il film era già un elemento che abbatteva sicuramente i costi, sia di gestione che di lavorazione. E questo è un film totalmente indipendente, alla quale poi si è aggiunto Paolo con l'Americo Sound per realizzare insomma un film che potesse essere in qualche modo qualitativamente appetibile, sia per il mercato italiano che per il mercato estero. E il tema che è quello dei fotoreporter di guerra ce lo consentiva. Giustamente come dicono loro il fotoreporter di guerra non è il classico fotoreporter che arriva lì scortato, albergo a 5 stelle, mangiare dalla mattina alla sera, no non funziona così. Loro ci hanno raccontato che hanno proprio vissuto con le persone che poi hanno subito guerre e quindi la loro situazione era veramente anche di un po' di degrado. Quello che secondo me loro, alla fine a livello emotivo, perché a molti di loro raccontano che nasce un'amicizia, nasce un'amicizia tra il fotoreporter e il soggetto cui viene fotografato. Infatti nel film vediamo molti fotoreporter che quando parlano di queste persone che poi loro considerano anche alla fine amici, si vede proprio nei loro occhi che c'è una questione anche di tristezza, perché poi alla fine del loro ritorno qua nella loro vita normale invece loro rimangono là ma molti di loro alla fine non ci sono più. Quindi il fotoreporter va a documentare questa situazione se non è bene o non è male. In prima linea nasce soprattutto per raccontare un aspetto che è quello dell'uomo in una zona di conflitto dove ovviamente si trova a fare i conti con minacce costanti ma anche con persone che hanno perso la vita, ma anche con persone con le quali sono coinvolti emotivamente e quindi noi abbiamo voluto raccontare in primis l'uomo che c'è dietro la macchina fotografica e quindi l'uomo di per sé coltiva, prova, affronta delle emozioni costanti in qualsiasi cosa che fa. Quindi in ambienti come quelli, in ambienti di conflitto ovviamente questa cosa cresce esponenzionalmente e ciascuno di loro reagisce a proprio modo, c'è chi spegne lì il cosiddetto interruttore e chi invece ti lascia travolgere dagli eventi, però non c'è una formula vera e propria per poter affrontare questa cosa. Quindi alcuni di loro sono sovraffatti, altri invece portano a termine il proprio lavoro distinguendo, diventando come dei dottor Jekyll e mister Hyde, cioè trasformandosi letteralmente davanti al soggetto fotografato. E poi ci sono persone che decidono di non scattare, altri che non decidono di scattare, però la maggior parte di loro scatta perché ritengono che quello che stanno facendo in quel momento non è utile soltanto da un punto di vista lavorativo, ma è utile da un punto di vista testamentale. E quindi ovviamente questo comporta il fatto che quando tornano a casa possono avere quello che è il cosiddetto burnout, quindi dovevo capire, cicatrici che non sono fisiche ma sono mentali, che si possono dominare, affrontare, ma non cancellare totalmente. Poi c'è chi ci riesce, ma sono veramente in pochi, perché in un modo o nell'altro qualche strascico ce l'hai, magari cammini per la strada, senti un incidente e la tua mente ti riproietta indietro nel tempo fino a un episodio simile in cui c'è stata una detonazione, oppure una pirena può evocare altre cose simili. Altre che dominano questa cosa con la medicina, però comunque questi sono dei fantasmi e delle cicatrici che continuano a portarti a presso e che non si cicatrizzano mai. La pornografia viene definita all'interno del film attraverso 14 punti di vista, ma che sono quanti i fotoreporter che abbiamo intervistato, però ovviamente la linea è sottilissima tra cosa è pornografico e cosa non lo è. Per molti è la vicinanza al soggetto e quello che può diventare, come posso dire, ossessivo a suo modo, vendere la violenza in maniera assolutamente gratuita e non per l'importanza che riveste nel momento in cui diventa testimonianza dell'orrore che avviene quotidianamente alle varie latitudini. Abbiamo cercato di avere rispetto anche nei soggetti fotografati, non siamo mai andati lì a sottolineare dei dettagli che potevano essere ancora più violenti, ce l'abbiamo documentati, però senza essere mai troppo voglieristici. Ecco, questo è il termine, secondo me, giusto da utilizzare. Con Matteo e Francesco abbiamo cominciato a lavorare alle musiche alla fine delle riprese, quindi in realtà ancora non c'era il montaggio che abbiamo visto qualcosa, avevo visto qualcosa del girato, ecco, ma loro avevano delle idee già precise su quello che sarebbero state le sequenze, delle idee precise di multe, di atmosfere che volevano ricreare e abbiamo lavorato su quello. Ho composto una decina di pezzi, in questo senso, e quando poi è arrivato il montaggio, che è stato fatto anche grazie alla musica, e mi sono trovato vantaggiato perché i ritmi erano già quelli giusti, quindi ho quelle delle musiche come erano, le ho ulteriormente modificate per adeguarle alle immagini e poi quando Matteo e Francesco hanno dato l'ok ho registrato gli strumenti veri, che erano archi a impatti reali, violino, viola, violoncello, chitarra elettrica, basso e batteria. Quindi è stato un lavoro abbastanza imponente, mi ha dato molta soddisfazione. Sicuramente, senza altro sinergico, abbiamo cercato da subito di evitare un linguaggio retorico, perché sarebbe bastata una nota fuori posto, carica di patetismo, finto dramma, per smontare l'impalcatura registrica che invece si basava molto sul realismo, sulla realtà così com'era, senza fronzoli. E penso che loro ci siano riusciti molto bene. Ognuno di loro racconta una storia in maniera diversa, con emozioni diverse e anche con uno scatto diverso. Quindi diciamo che per me sono tutti quanti allo stesso livello. Ma un po' mi allineo a Matteo, cioè nel senso scegliere tra i 14 è difficile, perché tutti loro ci hanno lasciato qualcosa e hanno raccontato degli aspetti uno diverso dall'altro e con approcci completamente diversi. Di fatto una cosa mi fa piacere, il fatto di aver raccontato questo mestiere attraverso generazioni completamente diverse, anche attraverso le figure delle donne, perché un altro stereotipo è che le donne non possono fare questo mestiere, invece ci riescono, e come? Magari riescono ad apportare quel punto di vista che gli uomini non riescono a toccare, quelle corte che non riescono a toccare gli uomini o a entrare in zone dove all'uomo non è consentito, pensiamo al mondo arabo, no? E quindi questo è una cosa, abbiamo quattro foto-reporter di generazioni completamente diverse, provenienze, modi di fare e di scattare completamente diverse, e quindi non c'è. Mi dispiace non poterti rispondere in maniera precisa alla tua domanda, però secondo me questo è l'importante, cioè il film, come mi è capitato a dire altre volte, deve essere visto come una mostra collettiva e quando vai all'interno di una mostra, che cosa fai? Il tuo occhio magari cade su una foto ben precisa, su un approccio, però poi di ciascuno di loro trovi qualcosa e di ciascuno di loro ci ha regalato delle emozioni completamente diverse. Allora, alla base c'è uno studio di quelle fotografie, uno studio proprio figurativo, l'approccio tematico, che ci consentivano di poter affrontare determinate tematiche, quindi abbiamo ragionato su all'incirca migliaia di foto, mille foto all'incirca, per poi utilizzarne tra le 300 e le 400, alcune viste in maniera molto più approfondita e altre mescolate come se fossero dei mix up o all'interno di sequenze musicali che appunto ha musicato Paolo e ognuna doveva toccare diversi aspetti, quindi innanzitutto è stata fatta una scelta sulla base di quelle fotografie che potevano creare dei light motive tra i vari fotografi e poi che ci permettestero di affrontare tematiche ben precise come appunto quello della pornografia piuttosto che quello delle emotività davanti a certe foto, davanti a certe situazioni e quindi la scelta è stata questa, non è mai stata, questa cosa ci tengo a sottolinearla, ma è una questione estetica, cioè non abbiamo mai scelto una foto perché fosse una più bella dell'altra, ma semplicemente perché raccontava qualcosa, perché ogni scatto poi racconta qualcosa e ha un significato che poi viene letto da chi poi fruisce queste foto, non soltanto perché poi molte volte magari il fotoreporter di turno scatta, ma scatta perché si trova in una situazione che deve documentare in pochi secondi, quindi non ha mai la possibilità in quelle circostanze di fare una composizione fotografica ben precisa, quindi abbiamo messo da parte l'estetica per privilegiare, estetica che poi pochissime volte abbiamo trovato per trovare quelle foto che avessero dei significati e dei collanti tra i vari protagonisti del documentario.